Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie fresca fresca dedicata alla sicurezza informatica. Prima di iniziare è doveroso fare una precisazione. Se dopo l'intro avete già ordinato antenne, ripetitori e bombe a mano da Amazon con la speranza di hackerare finalmente la rete del vostro vicino di casa, mi dispiace per voi ma siete nel posto sbagliato. L'obiettivo di questa serie è infatti quello di imparare divertendoci alcune nozioni di cyber security e di mettere alla prova le nostre abilità senza danneggiare nessuno, utilizzando esclusivamente servizi messi a disposizione per questo genere di cose. Detto ciò un rapido sguardo al mio setup che consiste molto semplicemente in una macchina virtuale, virtual box per la precisione, sulla quale ho installato Kali Linux. Ho fatto questa scelta semplicemente per evitare di installare robe tipo, boh, non so se ce ne fosse di bisogno un MetaSplot sul mio sistema. Poi ho scelto Kali Linux perché essendo già un sistema mirato per questo genere di cose ed esce già per l'appunto out of the box bombardato, più è anche user friendly, insomma mi sembra la scelta migliore. E niente, poi dai, detto anche fra noi, insomma, in una serie sulla sicurezza informatica, dai, Kali Linux mi sembra la scelta più democratica. Bene, detto ciò, passiamo subito a vedere il primo gioco di questa serie. I giochi che vedrete li ho pescati tutti da overthewire.org, il sito al quale ho grattato pure il nome per la serie, e Bandit è il nostro primo gioco, e come vedete è il primo di una lunga serie. Quindi non perdiamo tempo e guardiamo subito di cosa si tratta. Bandit, ah, una breve introduzione, Bandit è un wargame che mira ai principianti, quindi è disegnato proprio per i principianti. E ci insegnerà le basi necessarie per essere in grado di affrontare gli altri wargames. Poi, note per i principianti. Questo gioco, come molti altri giochi, è organizzato a livelli. Si inizierà dal livello zero e si cercherà di finirlo. Finito il livello, otterremo le informazioni su come iniziare il livello successivo. Le pagine di questo sito sono organizzate per livello e contengono le informazioni su come iniziare il livello X dal livello precedente. Perfetto. Poi, ah, mette anche le mani avanti e ci dice che incontreremo diverse situazioni dove non avremo idea di cosa fare, ma non bisogna impanicarci e non dobbiamo arrenderci, in quanto questo gioco è stato studiato appunto per insegnarci le basi. Quindi tutto regolare. Poi ci dà anche dei suggerimenti su cosa utilizzare, di dare un'occhiata ai manuali dei comandi, ah, di utilizzare anche Google. Perfetto. Bene, allora direi di iniziare subito partendo dal livello zero. Allora, il livello zero consiste nel loggarsi utilizzando SecureShell. Ah, poi ci dà l'host e la porta. Va bene, perfetto. Direi di non perdere tempo e di utilizzare subito SecureShell. Per chi non l'avesse mai utilizzato, SecureShell è un protocollo che permette di stabilire una sessione remota sicura e cifrata con un altro host, che poi alla fine sarebbe il successore del vetusto del net. Bene, quindi SecureShell. Poi, per specificare il nome dell'utente, si utilizza il flag L seguito dal nome dell'utente. Quindi LBandit zero. Poi si inserisce l'host al quale ci dobbiamo connettere, ovvero bandit.labs.overthewild.org. E poi, in questo caso, bisogna specificare la porta perché, di default, SecureShell è in ascolto sulla porta 22, mentre in questo caso è sulla porta 2220. Quindi, se non specifichiamo la porta, SecureShell tenterà di connettersi sulla porta di default. Quindi, inseriamo la porta tramite il flag P e premiamo invia. Come vedete, ci chiede la password. La password è sì, bandit zero. Ed eccoci qua. Siamo loggati sull'host. Ora, guardiamo cosa troviamo nella home. Ah, un file readme, perfetto. Leggiamolo attraverso il comando cat. Ok, questa suppongo che sia la password per il livello successivo. Perfetto. Io direi anche di appuntarle, via via. Non si sa mai. Quindi, bandit uno. Questa. Ok, salviamo. Salviamo. Salviamo la scrivania. Bandit uno. Bandit passa. Perfetto. Quindi, utilizzando questa password, che abbiamo appena ottenuto, potremo loggarci con bandit uno. Quindi, chiudiamo la sessione corrente. cambiamo username, incolliamo la password ed eccoci. Loggati sull'host come bandit uno. Ora, guardiamo cosa ci dice riguardo a questo livello. No, è bandit... è bandit uno a bandit due, sì. La password per il prossimo livello è salvata in un file chiamato trattino posizionato nella home directory. Perfetto. Quindi, guardiamo cosa troviamo nella nostra home. Ed ecco qua il file trattino. Ora, leggiamo che cosa contiene. Eccola qua. La password per bandit due. Salviamola anche questa. bandit due. Vai. Quindi, possiamo sloggarci di nuovo. Riloggarci come bandit due. Incolliamo la password ed eccoci qua. Guardiamo che cosa dobbiamo fare. La password si trova in un file chiamato spaces in this file name. Nella home. Ok, guardiamo. Ed eccola qua. Spaces in this file name. Leggiamolo. Ecco qua la password. Di nuovo appuntiamocela. bandit tre. Quindi, si va come treni. Allora. Quindi, bandit tre abbiamo detto. Incolliamo. Eccoci qua. Che cosa ci dice ora? La password per il prossimo livello è salvata. in un file nascosto in the in here directory. Ah, ok. Quindi, c'è una directory nascosta chiamata in here. Allora, le directory nascoste come si fanno a trovare? Ls all ed eccola qua. In here. Quindi, cd in here. Che poi non è nascosta in here. Puoi vedere? Eh no, non è nascosta. Ah, quindi il file è nascosto dentro in here. Ok. cd in here. Ls all. Ah, ecco, vedi. È il file nascosto. Infatti, è punto hidden. Che, come sapete, è un file che inizia con punto. viene automaticamente nascosto. Quindi, leggiamo questo file. Ed eccola qua, la password. Come promesso. Quindi, bandit. bandit. Quattro. Perfetto. Perfetto. Chiudiamo la sessione. Riloghiamoci utilizzando bandit. Quattro. Colliamo la password. E voilà. Che bellezza. Vediamo un po' che ci dice adesso. Ehi, dove vado? la password per il prossimo livello è salvata in un file. Ah, nell'unico file leggibile, human readable, in in here directory. Ok. Quindi, si dovrebbe trovare la directory in here. Perfetto. Ah, ok. e qui troviamo più file. E solamente uno contiene la password per il livello successivo. Chiudiamo qui un attimo. L'unica cosa che sappiamo è che la nostra password è l'unico file human readable. Cos'è un file human readable? è un file che è comprensibile all'essere umano. Se, per esempio, guardiamo cosa ci sta dentro il file 00, abbiamo questa cosa qua in output. Questo qua è un perfetto esempio di file non human readable. Non si capisce nulla di cosa c'è scritto. Quindi, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di concatenare più istruzioni. La prima è find. L'istruzione find, lanciata nuda e cruda, restituisce semplicemente la lista di tutto ciò che trova all'interno della directory. Poi, bene, abbiamo bisogno adesso di stabilire se i file sono human readable o no. E di cosa abbiamo bisogno? Arriva in soccorso il comando file. Il comando file ci dà delle informazioni riguardo al file passato come argomento. Quindi, proviamo ad esempio a fare file su file 00 e in output abbiamo data. Poiché, come avete visto, in output era tutta quella cosa strana. Quindi, il tipo di file 00 è il tipo data. Quindi, abbiamo bisogno di concatenare tutte queste istruzioni insieme per scremare i risultati e trovare così la nostra password. Come facciamo? Ok, proviamoci. Facciamo, lanciamo find, poi col flag type per specificare che a noi ci interessano solamente il tipo di file e non directory. Dopodiché, abbiamo bisogno di eseguire il programma l'istruzione, scusatemi, file sull'argomento che sta processando find. Poi, queste parentesi grafiche vedete, praticamente sono un placeholder per l'argomento corrente che sta processando find. poi, ah, il più è necessario perché stabilisce, cioè dice a find quando è finita l'istruzione. Ora, ok, dovremmo essere a posto. Abbiamo bisogno, infine, di scremare i risultati. Quindi, apriamo file e teniamo solamente, quindi utilizzando grep, il, oddio, human readable però è un po' vago. Proviamo, vabbè, a ASCII. Quindi, cosa facciamo? Si lancia il comando find, solamente sul tipo di dato file, si esegue il comando file sull'argomento corrente e si screma risultato solamente quando all'interno dell'output trova la parola ASCII. Guardiamo se funziona. Perfetto. Ci dice che il file 07 contiene un ASCII text. Guardiamo se si tratta della nostra password. Yes. Trovata. Ora, salviamola. Quindi, bandit5. Ed eccola qua. Ok, loggiamoci adesso come bandit5. Incolliamo. Ok, guardiamo che cosa ci dice per bandit5. La password si trova sotto la directory in here ed ha una delle seguenti proprietà. Ah, non una delle seguenti proprietà, tutte le seguenti proprietà. È human readable, è 1033 byte di grandezza e non è un eseguibile. Ok. Allora, spostiamoci in here e guardiamo cosa c'è. Ok, ci sono 20 sotto directory che contengono, immagino, che ne so, guardiamo dentro maybe here 00, diversi file. Ok, quindi, bisogna trovare in mezzo a tutto questo casino la nostra password. Io direi di tentarla lanciando sempre find, poi specificando ovviamente sempre il tipo di dato che stiamo cercando, quindi tipo file e così si escludono le directory. Poi bisogna specificare in più la grandezza del file che stiamo cercando, ovvero 1033 byte, c sta per byte. E poi non deve essere un eseguibile, quindi not execute table, poi deve essere human readable. Ok, quindi adesso bisogna lanciare il comando file sull'argomento corrente e scremare l'output con grep. Direi sempre con ASCII, visto che prima ci è andata bene. Trovato, quindi si trova dentro maybe here 07 spin file 2. E infatti eccola qua. Salviamola. E passiamo quindi a Bandit 6. Effettuiamo quindi la connessione con Bandit 6. Inseriamo la password e vediamo che cosa ci dice per questo livello. La password per il prossimo livello si trova da qualche parte sul server ed ha tutte le seguenti proprietà. Appartiene all'utente Bandit 7, appartiene al gruppo Bandit 6 ed è 33 byte di grandezza. Ok, quindi qua ci complica leggermente la vita. Faremo sempre uso del comando find, stavolta però specificando la directory dalla quale iniziare a cercare, in questo caso il root. Poi bisogna specificare il tipo di file sempre, quindi type F perché si sta cercando un file. Dopodiché bisogna specificare la dimensione, quindi size 33 byte, se l'ha detto. Quindi appartiene all'user Bandit 7, quindi user Bandit 7 e appartiene al gruppo Bandit 6. Quindi gruppo Bandit 6. Perfetto. Dovrebbe funzionare. Guarda casino. Ah, perché non abbiamo i permessi per andare a curiosare in certe cartelle, giustamente. E quindi ci riempie la shell di errori. Ok, facciamo un po' di chiarezza. Supprimiamo lo standard error. Si ridirge su DevMill. Ed eccola. Si trova in var. Lib. Dpkg. Info. Bandit 7 password. Eccola qua. Appuntiamocela. Bandit 7 password. Eccola qua. Andiamo avanti. Loggiamoci quindi come Bandit 7. Appena. Ecco. Ci siamo. Vediamo le istruzioni. La password per il prossimo livello è salvata in un file chiamato data.txt dopo la parola miliont Ok, guardiamo cosa abbiamo nella home Abbiamo fatto il file data.txt Diamoci un'occhiata giusto per curiosità Boia, ce n'è qua di roba Ok, via, allora diamogli subito una scremata Grap, miliont, giusto? Sì, niente, non salta fuori Allora, ah perché doppia L miliont, cavolo, eccola Trovata copia Bandit 8 E proseguiamo quindi con Bandit 9 Effettuiamo il login come Bandit 8 Un po' lento Ok, incolliamo Ci siamo E casca tutto Vediamo un po' che ci dice Una password Per il prossimo livello Si trova dentro data.txt ed è l'unica linea che si ripete solamente una volta Ok, quindi Abbiamo un'occhiata Alla home Prima di tutto Troviamo infatti data.txt Guardiamoci dentro Per vedere cosa troviamo Casino nell'altro mondo E quindi dobbiamo trovare Il sistema di recuperare L'unica linea che si ripete solamente una volta Per risolvere il problema Dobbiamo concatenare più comandi Allora, per prima cosa Dobbiamo leggere il contenuto di data.txt Dopodiché dobbiamo ordinare l'output Tramite il comando sort Ed infine stampare l'unica riga Che si ripete una volta sola Tramite il comando unique Con il flag u Come mai c'è bisogno di tutto Questi passaggi Perché Guardate un po' che cosa succede Se si salta Il passaggio dove si ordina l'output Non cambia assolutamente niente Eppure tecnicamente Unique Con il flag u Dovrebbe stampare in output L'unica linea che si ripete solamente una volta Il problema è che Il comando unique Effettua il controllo sulle linee Solamente adiacenti Quindi Guardate un po' Se Si ordina prima l'output Abbiamo questa cosa qua Abbiamo Tutte le linee che si ripetono Una dietro l'altra Quindi All'inizio troviamo 07 I R6 E poi Tutte le linee uguali Dopo 0 O B6 E tutte le linee uguali E via discorrendo Una volta che Si passa la staffetta Al comando Unique Con il flag u Riesce A trovare Con successo La linea che si ripete solamente una volta E ce la restituisce in output Infatti Abbiamo La nostra password Copiamola Poi proviamola Perché non si sa mai Bandit9 Interrompiamo La sessione Riloghiamoci come Bandit9 Incolliamo la password E infatti Eccoci dentro Bene Via Facciamo L'ultimo livello E poi Concludiamo L'episodio Allora Guardiamo Cosa ci dice Allora La password Per il prossimo livello Si trova dentro Data.txt Ed è l'unica Linea Ah no Ed è una delle Linee Yuma Redible Che iniziano Con il carattere uguale Ok Quindi Guardiamo Cosa abbiamo Nella home Abbiamo il nostro file Data.txt Quindi Guardiamo Cosa ci dice E infatti È pieno Di caratteri Incomprensibili Quindi Per prima cosa Dobbiamo Stampare I caratteri Human Redible E per farlo Dobbiamo ricorrere Al comando Strings Comando Strings Stampa Solamente I caratteri Printable Quindi Stampabili Quindi Utilizziamo Strings Su Data E già La situazione Migliora Ah Poi la password Dovrebbe essere Questa Tra le altre cose Però Facciamo le cose Ancora più pulite E Utilizziamo Anche Il comando Grep In modalità Espressione regolare E Indichiamo Che ci deve Stampare Solamente Le linee Che iniziano Con il carattere Uguale Infatti Eccole qua La password Io suppongo Che sia Questa Quindi Copiamola Appuntiamocela Sloghiamoci Riloghiamoci Come Bandit 10 Colliamo Ok Perfetto Ci siamo E con Bandit 10 Finisce Il primo Episodio Di Over the Wire Fatemi Sapere Le vostre Impressioni A me Personalmente Vi dirò La verità Che il giochino Mi sta Infottando Parecchio Quindi Sicuramente Lo porterò Avanti E Niente Quindi Per questo Video è tutto E ci vediamo Alla prossima